Dalla mia galleria d'arte in via Ferdinando Pompeano XI in Mazzara del Vallo, Trapani, Sicilia e Italia, auguro a tutti voi, amici ed amiche vicine e lontani, una felicissima giornata piena d'amore, di serenità, di tranquillità, con tanta, tanta, tanta salute, una piccola carrellata di miei lavori ed è sempre il vostro amico Giovanni Alessi da Mazzara del Vallo che vi augura una felicissima giornata. Ciao!